Oroscopo del giorno, sabato 26 settembre 2020 Ariete Amore In questa giornata avrete un po' di pensieri per la testa, qualche dubbio generale. Dovreste invece evitare di concentrarvi troppo sulle preoccupazioni o su quello che non vi sembra così certo. Vodetevi il sabato con maggiore leggerezza. Lavoro Sarete propensi a guardare al domani, a guardare ai vostri obiettivi professionali. Toro Amore In questa giornata non avrete una grande voglia di fare, vorreste stare più tranquilli con voi stessi eppure con gli altri. Resto le cose potrebbero andare diversamente, per il momento potrete anche evitare di pensarci troppo. Lavoro Non vi andrà di faticare molto e di dedicarvi completamente ai compiti di lavoro. Gemelli Amore Questa giornata non sarà particolarmente semplice, ma per fortuna è destinata a migliorare. Riuscirete a trovare la giusta serenità nel rapporto di coppia e tutto vi apparirà più nitido. Non temete un'umore un po' nervoso, cambierà. Lavoro Lavoro Probabilmente condividerete idee e progetti, mostrerete quello a cui tenete così tanto. Cancro Amore Oggi dovrete curare molto il vostro comportamento e il vostro modo di fare. Gentilezza e dolcezza saranno caratteristiche facilmente apprezzate dalla persona che sta al vostro fianco. Sarà un sabato tranquillo ma interessante. Lavoro Non dovrete smettere di credere nei vostri sogni e nelle vostre idee, soprattutto se ritenete il tutto molto stimolante. Leone Amore È arrivato il momento di lasciare indietro timori e problemi per essere più leggeri in un rapporto. Un atteggiamento genuino vi aiuterà con il partner e potrete godervi ogni situazione in piena armonia. Molto bene i sentimenti e le emozioni, insomma. Lavoro Se avete un progetto importante in mente dovrete cercare di curarlo. Vergine Amore A partire da questo sabato le stelle vi sosterranno. Il vostro umore e le vostre energie saranno decisamente interessanti. Sarete bravi a comunicare con il partner, quindi sarà possibile spiegare meglio alcune sensazioni senza troppe paure. Lavoro Dovrete concentrare tutte le energie sul lavoro, sui vostri sogni a cui tenete di più. Bilancia Amore Questo sarà un sabato molto sereno. D'altronde questo weekend sarà davvero positivo per voi. In una relazione d'amore sarà importante dedicare del tempo ma soprattutto passione e sentimenti. Dovrete cercare di godervi di più le emozioni. Lavoro Le idee di oggi saranno interessanti e presto potrebbe pure arrivare qualche novità. Scorpione Amore È un periodo in cui sentite l'esigenza di ragionare un po' su alcuni aspetti della vostra vita. Senz'altro il rapporto di coppia non fa eccezione. Dovreste però cercare di godervi meglio il sabato. Sate un po' più leggeri per sentirvi meglio. Lavoro Avete degli obiettivi e delle idee in mente che in fondo non sono così lontane dalla realizzazione. Tagittario Tagittario Amore Questa sarà una giornata davvero incoraggiante perché il vostro umore sarà alto. Se avete un partner al vostro fianco vorrete godervi passione e belle emozioni. Avrete pure voglia di fare passi lunghi. Non agirete con calma e tranquillità ma per istinto. Lavoro Sul posto di lavoro non sempre le vostre opinioni possono essere condivise da tutti. Capricorno Amore Per oggi non ci saranno grandi novità in campo amoroso. Sicuramente sarà essenziale provare ad ascoltare il proprio cuore che con i sentimenti sbaglia poco. È così che riuscirete a sentirvi un po' meglio rispetto a prima. Lavoro In questo sabato nessuno vi distrarrà dai vostri compiti professionali. Quanta energia Acquario Amore Se avete una relazione sentimentale questo è il giorno giusto per lasciarsi andare alla passione. Agire d'intuito e seguendo l'istinto non sarà sbagliato. Questa giornata potrà rivelarsi davvero molto speciale. Dovrete cercare di godervela. Lavoro In questo sabato non aspettatevi grossi cambiamenti lavorativi. Sarete concentrati soprattutto sulla sfera intima. Pesci Amore Questa sarà una giornata piuttosto serena. Se avete una persona speciale al vostro fianco potrete dedicare il vostro tempo al vostro amore. E' così che la vostra complicità di coppia diventerà ancora più solida e sempre più in crescita. Lavoro Oggi non vi impegnerete più di tanto ma non è detto che non arrivino notizie interessanti. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.